buona giornata amici da massimo foghetti bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 14 aprile 2022 una giornata particolare questa perché siamo nelle vicinanze della pasqua e oggi iniziano le cerimonie più significative della chiesa cattolica per quanto riguarda la preparazione a questo giorno importante di risurrezione oggi giovedì santo si celebra il rito della benedizione degli oli santi durante la messa del crisma e fano tv trasmetterà appunto questa funzione questo rito alle ore 10 nella chiesa dalla chiesa di loreto di loreto al mattino e intanto nel pomeriggio si ricorda l'ultima cena del signore dando così inizio al triduo santo in questo caso la messa sarà trasmessa alle ore 17 e 30 veniamo oggi alle previsioni del tempo intanto diciamo subito che il sole è sorto alle 6 e 28 e tramonterà alle 19 e 49 il cielo in prevalenza su tutta la regione marche si manterrà poco nuvoloso per l'intera giornata salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano che non dovrebbe causare alcun problema i venti saranno al mattino deboli al pomeriggio moderati le temperature oscilleranno tra gli 8 e 14 gradi per quanto riguarda la massima ed ora apriamo la pagina sul resto del carlino la pagina di fano e vediamo come si parla di un argomento molto molto interessante e molto proficuo per quanto riguarda il nostro territorio se realizzato con le dovute precauzioni si parla dell'arretramento della ferrovia arretramento se risale sul treno ma boccia fosse sei ore e metà origlia il sindaco di fano ieri ha convocato una conferenza stampa e si è presentato con il vice sindaco di pesaro daniele vimini entrambe le ipotesi sono state valutate per il ricongiungimento della ferrovia al vecchio tracciato non non vengono valutate nel migliore dei modi infatti non soddisfano il sindaco massimo seri dice sia all'arretramento della ferrovia definendola una opportunità storica una risorsa storica ma boccia però sia il bypass pesarese con uscita a fosso sei ore sia l'alternativa proposta dal sindaco di pesaro matteo ricci di proseguire fino a metà origlia dove dovrebbe essere realizzata una stazione a chiaruccia per questo ulteriore tratto servirebbero 500 milioni e aggiuntivi mentre ci vorrebbero 3 miliardi per arrivare poi fino a marotta ipotesi caldeggiata questa dal sindaco di fano e per quanto riguarda le prese di posizione abbiamo su questo articolo di spalla la presa di posizione della lista civica in comune espressa dalla capogruppo consigliare carla luzzi non sia ricci a dirci dove fare la stazione ha detto appunto l'esponente politica la stazione di chiaruccia è un'opzione da incubo ha dichiarato ci dice bontà sua il sindaco ricci dove dobbiamo prevedere un nuovo scalo ferroviario come se fanno fosse l'estensione di un plastico inoltre il sindaco di pesaro prospettando una nuova stazione a chiaruccia e immaginando che la ferrovia prosegua poi a novilara sotto la dismessa galleria dell'extracciato autostradale lascia intendere un percorso ferroviario la cui traiettoria sarebbe più o meno parallela al percorso autostradale in altre parole un tracciato ferroviario che dividerebbe centinarola da fano 2 rossiano dal flaminio santorso da chiaruccia passando in prossimità delle case di migliaia di fanesi pensate la ferrovia che percorre a 10 metri a 20 metri dalla propria abitazione dalle proprie finestre dalle proprie porte di accesso la giunta acquaroli e la palla al piede della nostra regione sono fuori della realtà ha replicato anche la segretaria provinciale del partito democratico rosetta fulvi altro argomento quello del elettrodotto che si appresta a realizzare terna a un elettrodotto il ladriatic link un elettrodotto che dal nostro territorio collegherebbe il trasporto dell'energia elettrica fino all'abruzzo passando poi per via sottomarina ebbene la lega in questo caso si pone in una posizione intermedia plaude all'aumento della fornitura di energia elettrica nel nostro territorio che alimenta molte aziende e le aziende ne hanno veramente bisogno di questo supplemento ma allo stesso tempo cerca di soddisfare le esigenze degli abitanti di carrara affermando che il loro il loro peso la loro incombenza di ricevere di ospitare nel loro territorio il nuovo impianto di trasformazione da energia alternata a energia continua insomma deve essere ripagato mentre i residenti continuano la battaglia dal partito di salvini si invita a cogliere tutte le opportunità afferma il giornale e poi il giornale parla di un lutto questa mattina è deceduta l'avvocato francesca cecchini una professionista stimata la quale si spesa soprattutto per i bambini è stata vinta da una malattia oggi l'addio donna mite riservata avvocato civilista stimato sia al forno di pesaro che in quello di ancona dove si è dedicata per tutta la vita con grande passione ai bambini in difficoltà il rito funebre si celebrerà oggi pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di san pio decipo al poderino ed ora un'altra presa di posizione è espressa dai consiglieri cora fattori e stefano marchiugiani di azione più europa parlano dei contributi che l'amministrazione comunale elargisce a pioggia a diverse associazioni dice stop a questo metodo di contribuire appunto all'attività di queste associazioni occorre distribuire le risorse in base ad una scheda di valutazione a un bando pubblico sarebbe una garanzia di qualità quindi non è un metro di giudizio basato sulla simpatia magari sulla rilevanza di un progetto sul fatto che questa è una novità o meno insomma con diverse valutazioni di carattere un po' empirico ma con un bando di concorso basato su dei parametri che si riferiscono soprattutto alla qualità è una proposta che i due consiglieri presenteranno poi alla giunta ed ora passiamo a terre roveresche perché si parla di elezioni si parla di politica si va verso il voto sei conferme e sei new entry un rinnovamento a metà per la squadra con cui il sindaco uscente sebastianelli tenta il bis nella corsa al municipio di terre roveresche sei conferme e sei volti nuovi per la lista uniti per unire terre roveresche stesso nome stesso simbolo che è stato usato nel 2017 con cui il sindaco uscente antonio sebastianelli cercherà il bis alle elezioni del prossimo 12 giugno le conferme sono quelle dei quattro assessori in scadenza sono claudio patregnani lucia borsini ortensia sbrozzi e cristiana andreani e dei consiglieri luciano barbetta e sauro baldini le new entry sono invece quelle di lorenzo ascani operatore museale residente al municipio di urciano diego santini neolaureato in economia e commercio è impiegato a san giorgio e filippo piersanti che un imprenditore agricolo di piagge passiamo ad urbino dove si parla di eventi in prossimità della pasqua tornano gli eventi pasquali mercatini mostre e spettacoli la città si anima di nuovo dopo due anni di stop a causa della pandemia è il programma degli eventi viene sintetizzato oggi dal resto del carlino si incomincerà sabato con l'apertura del mercato dell'artigianato artistico in via valerio poi ci sarà un festival di tre giorni tra artisti artigiani musicisti allestimenti con giochi e tanto tanto altro le mattinate saranno dedicate soprattutto ai bambini con laboratori creativi durante il festival non ci sarà però solo musica e spettacoli ma anche dimostrazioni di antichi mestieri un campo giochi in piazza valerio pittori che sveleranno i propri segreti è un costet fotografico con in paglio opere degli artigiani di artigian arte quindi un'occasione in più per visitare la città ducale durante le festività pasquali passiamo ora ad sant'angelo invado passiamo a sant'angelo invado perché dobbiamo rilevare una signora molto molto longeva si tratta di nonna filomena che ha compiuto 107 anni e che ha vinto tutte le sfide uscita in colume persino dal covid ieri ha celebrato l'importante traguardo del suo compleanno 107esimo compleanno nella residenza sanitaria di sant'angelo invado la signora pensate ha superato due guerre mondiali la spagnola un'alluvione il virus di quest'anno tutte le crisi insomma tutte le vicende familiari è una nonnina che ha compiuto questa grande e interessante età passando una vita vivendola intensamente ed ora viene festeggiata insomma non solo da coloro che gli stanno vicino ma anche da tutta la città e a fermignano torna dopo due anni la tradizionale processione del venerdì santo che si associa un po alle iniziative pasquali che si celebrano sia a cantiano con la turba sia a cagli con la processione del cristo morto e a fermignano la tradizionale processione del venerdì santo e poi a fossombrone sempre più a rischio il tetto della quadreria cesarini il comune stanzia 370 mila euro per correre ai ripari c'è stata una preoccupazione per lo stato dell'immobile che conserva opere di importanti valori e l'intervento di restauro e di risanamento conservativo del tetto quantificato in 370 mila euro e tra le priorità del piano delle opere pubbliche redatto dall'amministrazione comunale vediamo anche la pagina di pesaro dove si parla del distanziamento degli ombrelloni ebbene ritornano a essere più vicini ma ci sono anche bagnini che mantengono questo distanziamento adottato durante il periodo più nero del covid gli ombrelloni non dovranno per regola più tenere gli spazi degli ultimi due anni ma qualcuno dei bagnini li mantiene i clienti vogliono stare larghi ha detto sì perderò qualche ombrellone però insomma preferisco adeguarmi di più alle richieste dei clienti per fargli trascorrere una bella vacanza la stagione inizia al 30 aprile lo va stabilito la regione marche e terminerà il 2 ottobre acquaroli e esprime un cauto ottimismo per la regione ma vediamo che le premesse sono abbastanza buone sabina cardinali e una degli interessati a questo provvedimento dice io farò come lo scorso anno anche se sarò costretto a mandare via i clienti insomma preferisco non eccedere per quanto riguarda l'intasamento l'affollamento della spiaggia alberghi il grande risveglio pasqua e 25 aprile verso il pieno dagli ultimi due anni di calma piatta sotto il profilo turistico ora torna ad apparire qualche sorriso sul viso degli albergatori insomma la bassa stagione è stata quasi fallimentare però insomma adesso le prenotazioni cominciano a movimentarsi le iniziative cominciano ad attrarre turisti il bit a milano si è svolto si sta svolgendo con interessanti opportunità e paolo costantini che è il presidente dell'apa dell'associazione albergatori e gestore della storia dice calcoliamo 6.000 persone per i due weekend anche grazie all'aiuto dei tornei di basket e gli avvenimenti sportivi sono sempre un grande sussidio per le presenze turistiche ed ora parliamo di covid parliamo di vaccinazioni quarta dose per adesso siamo fermi alle domande c'è stato un solo vaccinato ieri over 80 nel ristò di pesaro gli altri hanno chiesto solo informazioni da oggi comunque è possibile la prenotazione una platea in provincia interessata di 25.138 persone un volontario si saranno presentati se no in 10 le lunghe code sono ormai un ricordo è un volontario della protezione civile che ha rilasciato questa dichiarazione comunque la fiducia degli anziani sembra in calo è un medico danilo de santi medico di medicina generale coordinatore dell'equipe territoriale che esprime questa valutazione molti ha detto preferiscono aspettare la direttrice del distretto sbagliano ancora tanti sono i focolai spetteranno i medici far capire che mantenere vigile il sistema immunitario sia la scelta giusta hanno detto appunto comunque ancora il covid continua a mietere vittime purtroppo e nonostante che ci sia questa questo desiderio di di liberalizzazione di attenuare le regole che dovrebbero appunto combattere la pandemia ebbene però la pandemia è sempre presente e miete dicevo ancora vittime ed ora vi voglio segnalare questo articolo che riguarda la cronaca e riguarda quel fatto che è avvenuto qualche giorno fa a pescara dove un 29enne ha ferito il cuoco di un ristorante perché gli ha servito degli arrosticini salati male e da lì è nata una lite sfociata in una tragedia perché il 29enne ha ucciso ha ucciso il cuoco ebbene braccia incrociate bocca cucita quest'ultimo ha fatto scena muta davanti al giudice avvalendosi della facoltà di non rispondere si tratta di federico pecorale 29 anni di monte silvano arrestato domenica pomeriggio nell'autogrill qui vicino a fano nell'autogrill il metauro est dove era arrivato in taxi qualche ora dopo aver seminato sangue e terrore in un ristobar di pescara lì ha sparato al cuoco 23enne perché a quanto pare gli arrosticini erano arrivati salati male insomma proprio andava via di testa ovviamente e qui abbiamo ancora la presa di posizione del sindaco ricci per quanto riguarda l'arretramento della ferrovia ferrovia no a certi interventi insostenibili i dubbi del presidente acquaroli previsti in futuro troppi treni merci sulla adriatica in mezzo alle nostre città arretramento ovunque o arretramento in tutta la regione oppure no ad un arretramento parziale soprattutto non ad un arretramento funzionale soltanto al trasporto delle merci perché occorre incentivare anche il trasporto dei passeggeri perdiamo la salute e il valore delle case sono gli abitanti di soria che protestano contro l'installazione dell'antenna i quali chiedono ma perché il comune vuole farla proprio qui nel nostro quartiere moretti dell'urbanistica dice emissioni saranno molto basse e già nel 2018 si era parlato di questo argomento comunque sembra che l'amministrazione comunale voglia proseguire su questo con questo provvedimento vediamo anche il corriere adriatico sulla pagina di fano si evidenzia quello che è avvenuto in consiglio comunale l'altra sera quando la lega ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti delle vice sindaco cristian fanesi ebbene in questo caso è insorto il partito democratico con la sua capogruppo agnese giacomoni la quale ha detto se c'è un colpevole siamo tutti noi ovvero tutta la giunta tutta la maggioranza e non è giusto colpevolizzare soltanto un esponente ci sono stati dei ritardi ritardi che riguardano la presentazione del piano regolatore generale ritardi che si riferiscono all'entrata in funzione dell'impianto di sollevamento acque di piazzale a mendola al lido ritardi che si riferiscono alla scelta del tracciato per il tratto finale degli interquartieri insomma c'è stata un'autocritica della maggioranza per quanto riguarda questi provvedimenti difficili anche da prendere in periodi delicati come quelli del covid comunque c'è stata anche una parziale auto accusa una parziale riconoscimento di responsabilità e in quella occasione non si è trovata nemmeno un'intesa sulla pista dell'Arzilla nonostante che il capogruppo della lista civica che si riferisce alla lista del sindaco quella che si riferisce alla città Enrico Cipriani che aveva cercato di attuare un'integrazione ad una mozione presentata dal movimento 5 stelle ebbene nonostante questo non c'è stata poi una intesa tra le parti soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di un nuovo sondaggio che avrebbe dovuto certificare l'esatta natura del terreno per evitare quella grande gabbionata che intende realizzare il progetto redatto dal ASET e si parla anche dell'Adriatic Link per quanto riguarda le proteste di Carrara la Lega segnala gli aspetti positivi del progetto ci sono nuove opere per 10 milioni ma i cittadini vanno ascoltati quindi la Lega si pone a metà strada tra un desiderio di alimentare appunto l'energia elettrica alle nostre aziende ma anche di soddisfare le esigenze dei carraresi cade la maschera il PD non vuole il treno il movimento 5 stelle interviene sulla Fano Urbino ed evidenzia le contraddizioni politiche con il governo ed ora passiamo alla pagina della Val Metauro dove troviamo ancora un articolo che riguarda Fano e si parla di un'iniziativa dell'Africa Chiama la quale ha replicato il caffè sospeso di Napoli ponendo l'uovo sospeso del nostro territorio cioè un uovo che le persone sensibili alla solidarietà pagano per poi donarlo ai bambini, ai poveri, ai profughi, agli immigrati insomma a tutti coloro che non si trovano in prosperose situazioni economiche una bella iniziativa questa dell'Africa Chiama sul modello napoletano del caffè pagato e poi apriamo la pagina anche sulla pagina di Pesaro dove vediamo che il primo argomento viene, eccolo qui il primo argomento che viene evidenziato è quello che è stato trattato durante la conferenza stampa di ieri tra il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini e il sindaco di Fano Massimo Seri Ferrovia, Seri Pontiere per l'arretramento una visione di insieme un altro articolo interessante è quello della rotonda a tre martiri ed è una sorpresa di Pasqua oggi ci sarà una riunione operativa in comune per definire modalità e tempi dei lavori per realizzare questa nuova infrastruttura i New Jersey saranno riciclati per avviare la sperimentazione a case bruciate e per ultimo una notizia che riguarda il grande complesso del San Benedetto il San Benedetto ha ottenuto i finanziamenti del Pinqua ma i borghi restano fuori dai fondi soprattutto restano fuori anche i progetti di Fano e di Urbino e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 di questa sera per Occhio alla Notizia su Fano TV a risentirci, grazie per l'ascolto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti